Buonasera e ben ritrovati in una nuova puntata di Redonna. Oggi parliamo di disabilità con un'Italia che sta progredendo ma ancora tutto il lavoro da fare è tanto. Ne parliamo con i nostri ospiti sotto il profilo politico, sociale, psicologico e anche della formazione. È un'Italia che si equipara a quelli che sono anche gli altri paesi europei con i suoi pregi e difetti. Si dice molto spesso che siamo un passo, due passi a seconda televisione indietro rispetto ad altre nazioni. Così non è perché tante cose bollono in pentola, tanti progetti ci sono sia a livello istituzionale e politico di questo mandato sia anche con le tante associazioni che si occupano dei ragazzi, associazioni di volontariato e non sul territorio. Dove lo sport è un altro aggregatore fondamentale sociale e dove il terzo settore ricopre un ruolo fondamentale del nostro tessuto connettivo tra quello che è la società, le famiglie e appunto gli stessi ragazzi. Ne parliamo insieme a Paola Romano che è presidente dell'associazione Angeli di Niffa che è qui con noi. Buonasera, bella ritrovata. Buonasera e grazie per l'invito. E Antonella Nuzzaci che ritroviamo un grande piacere, pedagogista, docente universitaria. Grazie dell'invito. E allora andiamo a vedere il servizio così ci chiediamo un po' le idee anche attraverso alcuni dati. Secondo il rapporto mondiale dell'OMS del 2022 il numero delle persone con disabilità in tutto il mondo è salito a 1,3 miliardi pari a una persona su 6. Di queste circa l'80% vive in paesi a basso e medio reddito con servizi sanitari limitati. Il rapporto evidenzia come siano stati compiuti alcuni progressi negli ultimi anni ma nonostante tutto le persone con disabilità sperimentano ancora forti disuguaglianze di diversa natura rispetto al resto della popolazione. In Italia secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Istat sono 3 milioni e 150 mila le persone disabili ovvero circa il 5,2% della popolazione tutta. Ma i più colpiti sono il quasi un milione e mezzo di ultra 75 anni e il 22% della popolazione che si trova in condizioni di forte disabilità e un milione di questi sono donne. Il 29% delle persone con disabilità vive da sola. Secondo l'indagine l'incidenza di persone con disabilità è più alta nelle isole della Sardegna e della Sicilia con il 6,5% mentre il valore più basso è registrato al nord ovest 4,5%. Le regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono l'Umbria e la Sardegna rispettivamente il 6,9% e il 7,9% della popolazione. Campania, Lombardia e Trentino Alto Adige sono invece le regioni con l'incidenza più bassa 4,4%, 4,1% e 3,8%. L'incidenza è molto alta tra le persone anziani quasi un milione e mezzo di ultra 75 anni più del 20% della popolazione in quella fascia di età si trova in condizioni di disabilità un milione di loro sono donne. Nel 2021 la legge di bilancio ha aumentato i soldi destinati al fondo per le politiche per le persone con disabilità. Dai 300 milioni di euro previsti per il 2022 si è passati a 350 milioni all'anno fino al 2026 servono a finanziari molti servizi indispensabili dedicati anche alle persone che eventualmente le assistono. Tutte le politiche di sostegno e assistenza così come i fondi specifici per l'inclusione sono indirizzati a migliorare la situazione. L'accesso al lavoro, all'istruzione, allo sport o ancora all'eliminazione delle barriere architettoniche e la progettazione di luoghi inclusivi sono pensati e finanziati per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. Lo sport in questo senso rappresenta un'opportunità di crescita e di formazione fondamentale per le persone con disabilità che permette di raggiungere un importante benessere sia fisico sia psicologico. Così praticare per una persona disabile sport diventa ritrovare la propria autonomia, realizzarsi e recuperare parte della mobilità. Queste attività spostano l'attenzione dalle condizioni individuali al contesto sociale della persona con disabilità in quanto protagonista di relazioni con ambienti e persone per evitare di ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società. Se il problema più significativo allora è quello della mancanza di dati certi che rende complicato capire le tendenze e l'impatto delle politiche, leggi, riforme e interventi, possono aver avuto è altrettanto vero che gli strumenti e i finanziamenti risultano spesso insufficienti o inefficaci. Sebbene infatti per esempio le politiche di accesso al lavoro sono state ispirate al principio della valorizzazione delle capacità degli individui, i livelli occupazionali delle persone con disabilità rimangono molto a di sotto della media nazionale e relegate a svolgere manzioni secondarie. Si tratta di progettare e realizzare un nuovo modello di welfare per contrastare il rischio di esclusione e di svantaggio. Come avete sentito dal servizio, secondo i dati dell'OMS del 2022, i disabili nel mondo sono 1,3 miliardi, praticamente 1 su 6 vivono a basso e medio reddito con servizi sanitari limitati. In Italia, secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Istat, 3 milioni e 150 mila le persone si disabili, ovvero il 5,2% della popolazione con un milione e mezzo di ultra 75 anni, cioè il 22% della popolazione. Ci sono ovviamente da fare delle considerazioni a livello sociale e anche a livello di Italia, di varie regioni. Vado solo a ricordare quello che è stato detto, ovvero Sardegna e Sicilia al 6,5%, il più basso abbiamo a nord ovest con il 4,5% e poi più diffuso sono Umbria e Sardegna con il 6,9% e il 7,9% della popolazione, senza adesso andarle a dire tutte. Insomma, dobbiamo anche capire quali sono le politiche sociali e dove si va a parare. Sì, abbiamo detto a livello centrale, ma tanto fanno anche le regioni con i bandi e le associazioni. E qua abbiamo Paola Romano che rappresenta una di queste, che è Angeli di Ninfa. Ecco, voi come operate sul territorio, Paola? Soprattutto siete a rapporto magari con le scuole, con le varie attività nel territorio e anche con le istituzioni, con la regione. Com'è? Voi venite dalla Campania. Sì, noi operiamo in Piemonte, quindi il nostro territorio è tutta la regione Piemonte. I rami sono in vari settori, quindi dalla musica, dalla coltivazione della natura e il mantenimento dei parchi, così come vedrete poi per quello che riguarderanno i video sulle attività, dove ci sarà anche il campo di lavanda, che è una delle attività che inducono a stare nella natura. Quindi sono varie le branche che noi occupiamo. E sulla parte invece sportiva, già da anni ci dedichiamo a varie tipi di attività, dal calcetto al basket. E vediamo le immagini, infatti, questi sono dei ragazzi. Qua sono delle scuole o sono ragazzi vostri che vengono? Questi sono ragazzi autistici, quindi adulti, fascia adolescenziale ed adulta. Loro si stanno approcciando da quest'anno ad uno sport italiano che è nato a Cremona nel 2001 attraverso un por scolastico, quindi che riguarda le scuole medie, un'attività extracurriculare, dove fu messo in atto questo nuovo regolamento e decifrato questa disciplina sportiva come baskin, quindi basket integrato, dove è la massima espressione, secondo me, come tutte le discipline sulla disabilità, per la disabilità, è la massima espressione del fair play, perché è uno sport che include tutti i tipi di disabilità e anche le persone neuronormali, normodotate. Quindi ha un fascino completamente diverso dalle altre discipline sportive, perché la competizione, che è quella che insegna a controllare le emozioni, è presente, è presente un regolamento dove ci sono delle attività in base alle proprie competenze, quindi le proprie abilità motorie e cognitive, quindi alla portata di tutti e per tutti. Chiamo in causa Antonella Nuzzaci, come pedagogista, ma soprattutto anche come docente, parliamo di quello che avviene all'interno del mondo scolastico, quindi l'integrazione scolastica degli alunni, a che punto è? Cioè i ragazzi sono pronti ad accogliere, sono pronti a mettersi in gioco, perché molto spesso si parla di disabilità, ma se ne parla, poi dopo non si va sull'atto pratico, ecco, demandato molto spesso da queste associazioni, dal terzo settore. Com'è la situazione? Allora, intanto, diciamo, l'area pedagogica ha una società italiana di pedagogia speciale che si occupa di questi problemi e lo fa egregiamente, specialmente nell'ultimo direttivo che ha impegnato molte forze in questa direzione, soprattutto nella qualificazione degli insegnanti, in questo senso con il corso di sostegno che prepara ad hoc nei diversi gradi dell'istruzione. Io vorrei fare una precisazione per quanto riguarda invece la questione del concetto di inclusione che oggi, inclusione sociale ovviamente delle persone con disabilità, che cosa significa oggi parlare di formazione? Che cosa significa parlare di formazione all'interno di quello che l'interlocutrice che ha parlato prima di me diceva, no? Cioè, tu dove la formazione insieme alle agenzie educative, insieme a una, diciamo, a un'organizzazione sempre di sistema può dare per la realizzazione dell'inclusione? Perché il problema non è l'accessibilità solo all'istruzione, ma è l'accessibilità ai servizi, all'ambiente, all'informazione. Quei dati dell'istat ci indicano una prima criticità, che è quella della rilevazione relegata alle persone con disabilità. Ci dice che le persone con disabilità non sono un tutt'uno, no? Ma sono persone con difficoltà specifiche e in la misura dell'inclusione si gioca anche nella capacità della società di andare a sotto con tutta una serie di servizi che integrati determinano ovviamente l'inclusione stessa. Quando riguarda il settore educativo, la cosa più importante nei processi di inclusione, secondo me, si diceva prima, riguarda tanti aspetti dei processi di alfabetizzazione, riguarda sicuramente l'istruzione, ma anche di tutte quelle attività che prima venivano richiamate, la musica, il teatro, lo sport, che possono essere elementi di grosso supporto culturale al processo di alfabetizzazione, che non è solo alfabetizzazione, ma è una rete di sostegno, come dico sempre, che va a creare quell'elemento di comunicazione tra le varie agenzie in cui si può parlare di inclusione sociale a tutti i livelli. La seconda considerazione che voglio fare parte proprio dall'impegno dell'università in questo senso, che ha voluto la qualificazione del personale che si occupa dei ragazzi con disabilità, dove oggi fortunatamente l'inclusione passa attraverso i punti di forza, i punti di debolezza del disabile. Questo che si diceva prima dello sport è un esempio emblematico di quello che significa valorizzare la persona in tutti i suoi aspetti. Quindi il ragionamento che in qualche modo, e qui mi fermo per lasciare insomma spazio anche agli altri, nel ragionare sempre rispetto alla differenza come una disabilità espansa. Voglio dire che ognuno di noi, nel nostro modo di essere, è in modo un disabile in certi ambiti piuttosto che un altro. Quindi se noi consideriamo la società come, diciamo, piuttosto che andare sempre a considerare le mancanze, le forze, forse puntando sulle forze riusciamo anche a valorizzare noi stessi e gli altri. Il secondo elemento, e mi chiudo davvero, è la questione della misurazione degli interventi, che vengono in qualche modo pensati, e calibrati su certe categorie di soggetti. Forse dovremmo pensare a capire le ricadute che questi interventi hanno, sia nella scuola che fuori dalla scuola. Allora, nei giorni scorsi siamo stati ricevuti con grande piacere dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che ha aperto le proprie porte a noi, di Dire Donna Oggi e Cusano Italia TV e del suo Ministero. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, si è parlato ovviamente di disabilità, di rapporto tra questa e il bullismo, della legge delega e di quello che sono anche i compiti da attuare entro il 2024 e poi anche il grande tema sociale, a che punto è la disabilità oggi in Italia. E ci ha fatto un bel excursus di quello che saranno i progetti, di quello che presenterà l'Italia anche in Commissione Europea. Allora, andatevi a vedere, a gustare, almeno lo facciamo insieme, questa intervista proprio al Ministro Locatelli. Ministro, ha parlato di rivoluzione in tema di disabilità, ecco, cosa si tratta nel dettaglio? Beh, sicuramente è un momento storico importantissimo, straordinario, è un momento storico da dover cogliere perché abbiamo tante opportunità a partire dalla Convenzione ONU per le persone con disabilità che ha sancito alcuni principi importanti che stiamo recependo in questo momento anche con la legge delega. Abbiamo l'opportunità straordinaria anche del PNRR, quindi sta cambiando anche il punto di vista insieme alle normative, insieme alle azioni e questo è fondamentale per un cambio anche di approccio e anche culturale al tema della disabilità, dove dall'integrazione abbiamo già fatto un salto di qualità all'inclusione, ma ritengo sia necessario farne uno ulteriore, cioè immaginare ed essere convinti che ogni persona ha una competenza e un talento e noi abbiamo il dovere di valorizzarli, sia nelle nostre comunità, sia per il nostro Paese. Ha parlato di legge delega, lo scorso anno è stata approvata, gli obiettivi, i paletti entro il 2024, quali sono i passi da perseguire e soprattutto anche le prospettive per il futuro? Beh, intanto la legge delega prevede cinque decreti attuativi, due dei quali fanno parte anche delle milestone proprio del PNRR, noi riteniamo che tutti possano entro metà diciamo primavera del 2024, così come previsto anche con la termine di scadenza del PNRR, essere messi diciamo in funzione, in atto e quindi attuati. Uno prevede l'istituzione del garante nazionale per le persone con disabilità, uno prevede un tavolo di lavoro per l'individuazione dei livelli delle prestazioni sociali, quindi un tema importantissimo che proprio anche contenuto nella nostra Costituzione non è mai stato approcciato, quindi è anche questa una grande rivoluzione e poi uno sull'accessibilità delle pubbliche amministrazioni sia dal punto di vista fisico che quello tecnologico. Ma i due più rilevanti anche in termini di rivoluzione in questo momento storico riguardano l'accertamento della condizione di invalidità e disabilità che per tantissimi anni e ancora oggi viene fatta attraverso le tabelle e le percentuali e invece noi passeremo a un metodo quello delle ICF, cioè del funzionamento stesso della persona così come è chiesto dall'Europa, dalla Convenzione ONU e come riteniamo che sia giusto fare quindi un passo davvero importante. E l'altro che riguarda il progetto di vita, cioè mettere al centro la persona di una serie di servizi, attività e insomma di tutte quelle cose che riguardano davvero la persona stessa dal punto di vista sanitario, sociale e sociosanitario. Ha toccato due temi molto importanti, ovviamente un politico, la politica deve andare avanti e deve progredire in base a quelle che sono le esigenze delle persone ogni giorno, deve fare la sua parte forse quella più importante, ce n'è un'altra però molto delicata che è quella sociale. Ecco, a livello di inclusione come siamo messi in Italia? Allora, diciamo che c'è ancora tanto da fare, dobbiamo lavorare ma l'importante è che lavoriamo insieme secondo me è una strategia fondamentale quella di immaginare tutte le azioni politiche condivise col mondo del terzo settore e anche con il mondo del privato e del privato sociale anche con le stesse fondazioni che fanno tantissimo, quindi un trio formato da istituzioni, terzo settore e anche privato e privato sociale. Questa può essere una carta vincente per arrivare in modo capillare ai bisogni dei cittadini e per riuscire a sostenere tante azioni e progetti, ma questo è anche un po' contenuto nella legge 328, nella legge 117 sul terzo settore, coprogrammare, coprogettare insieme per dare delle risposte davvero concrete. Quindi il lavoro delle associazioni anche sul territorio, inoltre il sudo connettivo è anche molto importante, questo dobbiamo dire. Preziosissimo, io mi sto anche diciamo in qualche modo portando fuori dai confini, sono stata di recente a Bruxelles e poi presto ci sarà la conferenza mondiale dell'ONU sulla disabilità ed è importantissimo valorizzare quello che viene fatto nel nostro paese. Si tratta di associazioni, enti del terzo settore, ma soprattutto si tratta di persone straordinarie che fanno volontariato, che lavorano e che riescono a realizzare progetti davvero importanti, sempre anche con al fianco le istituzioni in moltissimi casi. Senta, ne stiamo discutendo anche all'interno della tv, ma è una piaga sociale ormai da anni quella del bullismo e purtroppo anche del cyberbullismo che si sta affermando tra i giovani anche attraverso i social. Ecco, la connessione purtroppo c'è con la disabilità, quindi il bullismo e disabilità, insomma come possiamo estirpare questa piaga? Beh, insomma, intanto bisogna partire dai più piccoli nelle scuole, cioè abbiamo capito che c'è sicuramente un tema di repressione quando ci sono eventi violenti, ci mancherebbe altro, ma c'è un grandissimo lavoro di prevenzione da fare nel rispetto di tutte le persone. Ecco, e poi trovo che sia fondamentale questo, davanti alla disabilità ricordarsi sempre di mettere la parola persona. Allora, se pensiamo che siamo tutti persone, io credo che debba scattare il rispetto reciproco e che non ci debbano essere differenze. Quindi, in qualche modo, partire dai più piccoli anche con azioni mirate, qualche regione lo sta già facendo, ci sono delle campagne anche nazionali importanti per arrivare a trasmettere, insomma, un concetto di condivisione e di rispetto degli altri che deve essere garantito, insomma, a partire dalle scuole. Si dice sempre che in Europa o nel mondo siamo un passo indietro, io non sono di questo avviso, soprattutto se è visto da questa legislatura, quella attuale, come è stato posto l'accento in maniera proprio forte su questo ministero e anche sulla sua persona. Ecco, c'è veramente un grandissimo interesse nel poter andare avanti. Forse equipararci agli altri paesi, ma non è molto corretto. Abbiamo sicuramente dei passi da fare, dei passi importanti. Ecco, quali sono dei passi da qui in futuro? Beh, allora, sicuramente c'è molto da fare dal punto di vista della revisione di alcune norme, come la legge sul dopo di noi, la legge 68, il tema della scuola. Ecco, lì dobbiamo agire, migliorare sia le norme che i sistemi e le azioni, ma lo faremo e lo stiamo facendo, tenendo sempre presente che l'Italia non è l'ultima, diciamo, della lista in Europa, ma anzi anche queste norme che ho citato caratterizzano proprio l'Italia per il grande impegno sociale, il grande impegno nell'inclusione e nel rispetto della persona, perché anche sulla scuola non tutti gli stati, bisogna ricordarlo, hanno un sistema di inclusione scolastica. Noi possiamo veramente, dobbiamo agire su questo sistema dal punto di vista del sostegno e sulla presa in carico, è chiaro, però, diciamo, tenendo sempre presente che anche nel rispetto della dignità della vita di una persona, poi c'è il percorso di formazione, c'è la dimensione dell'abitare, che deve diventare un durante dopo di noi, quindi anche quella legge è da migliorare, però siamo partiti con l'idea di accompagnare l'autonomia, e quindi è un'idea innovativa, col progetto di vita già contenuto lì, e oggi ne parliamo anche nel PNRR. L'ultima che le faccio è questo, c'è un obiettivo particolare suo, questo lo voglio portare a termini più di tutti, mi sta a cuore del motivo particolare, ovviamente deve fare il ministro, deve allargare ovviamente le braccia a tutti, però un tassello che ha posto nel suo mandato? Beh, insomma, io non so se si concluderà in questo mandato, però voglio lavorare per far comprendere il più possibile a tutti questa centralità del progetto di vita, perché è quello che ci garantisce che per ogni persona noi riusciamo a dare i servizi che servono a quella persona, e soprattutto a garantire l'unicità della persona, una persona non è che ogni tanto ha bisogno di medicine, di fisioterapia, e il giorno dopo ha bisogno di affetto, relazioni e sport. Tutti abbiamo bisogno di tutto, e questo è contenuto, e può essere contenuto nel progetto di vita, lo sforzo è questo, poi bisogna arrivare al budget di progetto, e un domani mi auguro al fondo unico. Grazie. Grazie a voi. La parte politica è sicuramente fondamentale, ma c'è una parte sociale, torno quindi da Paola Romano, la bellezza dei gesti di questi ragazzi nello sport integrato è qualcosa di unico, ecco, si lanciano dei messaggi, veramente non solo di inclusione, messaggi importanti. Ecco, c'è anche una crescita di questi ragazzi. Sì, è una crescita a 360 gradi, anche in questo caso, perché loro attraverso il movimento, quindi attraverso lo stimolo di tutta la parte proprio scettiva, senso motoria, quindi di tutto ciò che lo circonda, anche dal punto di vista spazio temporale, di cui lui di norma è un po' compromessa, riesce a migliorare nelle sue competenze, nella propria autonomia quotidiana. Quindi proprio stimola... Sono delle conquiste poi, l'autonomia quotidiana sono delle... Stimola tantissimo lo sviluppo di determinate attività cerebrali, attraverso il movimento mirato, quindi l'obiettivo di tirare a canestro, così come vediamo con le nostre immagini nelle nostre spalle, riusciamo, ecco, già il fatto che loro, essendo artistici, e palleggiano, e guardano, rivolgono lo sguardo verso il canestro, è già un grande successo, perché aprono il proprio mondo a uno spettro visivo più ampio. Questo ingandando un poco i movimenti stereotipati, quindi tutte le stereotipie, con movimenti volontari, quindi obiettivi ben definiti, che attraverso il gioco riusciamo a far migliorare indirettamente, senza toccare direttamente le problematiche, tutto il resto dei processi cognitivi. Quindi, sia dal punto di vista motorio, che sensoriale. Questo permette anche di allungare i tempi di questi movimenti involontari, apparentemente involontari, perché riescono a essere più presenti nelle attività e con le relazioni con gli altri, proprio perché è un grande problema. Certo, questo video è molto carino, possiamo anche rimandarlo, che fa vedere praticamente come anche dei professionisti siano stati bendati e fatti camminare per delle strade, insomma, comuni, diciamo per emulare quello che prova un cieco. E quindi mettersi anche nei panni, che molto spesso noi non ci mettiamo nei panni anche di queste persone. Questo è stato un esperimento, ma è un discorso anche prettamente educativo, discorso anche sociale, per potersi mettere a confronto e poter capire. A volte non si capisce, Paola. Assolutamente no. Quindi ecco perché ci si batte in una comunicazione non verbale, nel capirsi attraverso altri sistemi, che non è la semplice comunicazione o il parlare, perché vanno a diminuire l'attività di altri sensi. Un esempio, questo esempio che viene fatto nel bendare chi è abituato a vedere, fa sì che ci si percepisca il bisogno di utilizzare altri sensi per poter sopperire a questa mancanza. E quindi sentirsi, tra virgolette, nella difficoltà. Quando invece noi riusciamo a trovare un linguaggio unico, dove noi riusciamo a comprendere e a percepire quello che è intorno a noi, la disabilità non viene più, viene messa in un secolo. C'è, la prendiamo in considerazione, ma non la vediamo. Quindi è come se sparisse. Lo sport, per esempio, come queste attività, si mette tutti sullo stesso piano. In quel momento sparisce il tipo di differenza. Non c'è differenza. Questo è molto importante. Continuiamo a parlare subito dopo la pausa. Continuiamo il nostro discorso sulla disabilità. Introduciamo il prossimo ospite. Diamo la buonasera e benvenuta da Alessandra Rubiolo, psicologa. Buonasera. 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 E allora, torno da Antonella Nuzzaci. Per quanto riguarda il discorso, anche all'interno abbiamo parlato degli istituti scolastici. La formazione, quanto può essere importante degli insegnanti, dei maestri o di tutte quelle componenti che fanno capo alla disabilità, Antonella? Perché qua parliamo anche di istruzione, ma non è solo un discorso di istruzione. Cioè quanto è importante e la cultura da una parte e della destra la competenza? L'informazione degli insegnanti è fondamentale per riuscire non solo a rimuovere tutti quei meccanismi della partecipazione che richiamiamo sempre, che abbiamo richiamato anche prima per realizzare l'inclusione, perché le competenze dell'insegnante in contesto servono, diciamo, a diverso livello, che non sono, come dicevamo, solo quelli del raggiungimento degli obiettivi di alfabetizzazione, ma soprattutto quello che in qualche modo ci dice anche la legge, la realizzazione di un progetto di vita, laddove la persona disabile non sia solo integrata, ma costruisca tutto quello che è autonomia, autodeterminazione, la possibilità, cioè, di costruire un contesto di apprendimento dove le relazioni sono positive, rimuovere gli ostacoli sono una rimozione a diverso livello, quindi questa progettazione, per realizzare una progettazione a misura di allievo, come tanti anni fa diceva qualche grande pedagogista, vuol dire però dotarsi di strumenti, di tecniche adeguate, senza questo impianto metodologico, senza le competenze metodologiche forti, un insegnante in contesto non può agire, e soprattutto anche la visione dell'idea che l'insegnante lavori tra un insegnante curricolare e quello di sostegno, sempre in maniera, in Italia abbiamo tutto sommato un modello avanzato, perché il disabile non rimane fuori dalle aule e viene integrato nel contesto classe, il contesto classe cresce insieme con tutte le persone che sono al suo interno e allora il curricolare, l'insegnante curricolare va a sostegno di quello di sostegno, scusate l'impiccio delle parole, e quello di sostegno va a sostegno dell'insegnante curricolare e questo è molto importante perché evita fratture interne, evita diciamo che non ci sia una progettazione dimezzata, direbbe Italo Calvino. Io sono assolutamente d'accordo, anche perché ne abbiamo visti, di bambini a scuola, con questi insegnanti di sostegno, quanto questi siano importanti non solo per loro ma per l'economia, anche la vita quotidiana all'interno della stesso gruppo classe, quanto alla fine dei bambini magari siano timidi, siano riservati, abbiano delle problematiche altre e le maestre sappiamo, il rapporto adesso è 1 a 15, quello che sia, insomma uno più uno meno, ma è 1 a x alunni e magari uno riesce a stare attenta, la maestra no perché non vuole, perché ne deve tenere sotto controllo molti. Allora l'insegnante di sostegno è quella persona, quella figura anche un po' aggiuntiva, ma fa un lavoro prezioso, non solo sul disabito, non solo sull'integrazione, ma anche su qualche altro bimbo che necessita di altre attenzioni. Chiamo in causa qua la dottoressa. Ecco, le strategie di intervento che ci sono all'interno dei gruppi classi, sia con i bambini autistici, ma anche, chiamiamoli, normodotati, cioè quanto può essere utile e quanto vediamo che le classi anche possano andare avanti. Oggi, per esempio, all'infanzia abbiamo delle classi eterogenee, eterogenee, cioè cosiddetto che c'è il bambino di 4 anni che sta insieme a quello di 6, allora quello di 6 aiuta quello di 4 anni, quello di 4 anni progredisce e quello di 6 si sente anche più responsabilizzato. Dottoressa? Sì, sicuramente all'interno delle scuole ci sono tantissime situazioni, quindi sono tutti bambini speciali a modo loro, quindi vanno compresi, aiutati e quindi inclusi. Per quanto riguarda le tecniche, beh, dipende dalla disabilità, quindi appunto nel caso dell'autismo parliamo di tecniche comportamentali, perché sono quelle che si sono viste ad essere le più efficaci, quindi ogni... ma diciamo che le tecniche sono anche trasversali, perché quelle tecniche... mi viene in mente le tecniche della terapia ETA, da cui per esempio si estapola la token economy, per cui sono... praticamente si premiano i comportamenti positivi in sequenza in modo che il bambino abbia la possibilità di vedere, diciamo, supportato il comportamento adeguato che mette in atto. E questo è trasversale, può andare bene sia per i bambini neurotipici che per i bambini che hanno difficoltà a interiorizzare le regole della classe. quindi in verità, diciamo, un insegnante dovrebbe avere un ventaglio di strumenti da utilizzare sia per i bambini neurotipici che per i bambini con delle difficoltà. Però senza chiedere troppo all'insegnante, ecco, diciamo che la scuola fa sempre parte di una progettualità che riguarda la presa in carico di un bambino con difficoltà diversamente abile in cui sempre il centro, il perno è la neuropsichiatria perché la neuropsichiatria che fa la diagnosi la scuola fa il lavoro educativo ma chi dirige il percorso è sempre la neuropsichiatria. Poi ci sono, quindi parliamo di ASL, poi ci sono le attività private possono esserci, a volte ci sono appunto purtroppo non sempre ci sono terapie validate che si possono trovare nell'ASL, nel servizio pubblico e quindi spesso i genitori si trovano a dover attivare terapie private, a trovare... Ma molti genitori si lamentano che non viene fatto abbastanza, il paragono viene fatto sempre con gli altri paesi, ecco, ma secondo lei cioè si può far meglio, si può far qualcosa in più? Di sicuro abbiamo visto che negli ultimi anni anche il governo passato ma anche quello attuale si sono comunque impegnati nel progredire, si sono anche attivati in alcuni procedimenti perché tutto viene demandato come ha detto lei al privato, associazioni, al terzo settore, a enti anche di promozione che sviluppano tutti quei casi di pari opportunità o anche di integrazione, però secondo lei lo Stato c'è le ASL in questo caso sul territorio? Allora, diciamo, diciamo dai dati reali, la disabilità è in aumento quindi sicuramente c'è una forte pressione, un forte bisogno. A questo bisogno dovrebbero rispondere le strutture pubbliche. Ora, per esempio, se parliamo dell'autismo, le strutture pubbliche hanno migliorato molto le loro competenze dal punto di vista della diagnosi precoce, però tuttavia, pur avendo migliorato la diagnosi precoce che si può attivare intorno all'anno e mezzo, mentre parliamo dieci anni fa, quindici, prima dei tre anni non riuscivi ad avere una diagnosi di autismo, il problema è che poi devi attivare le terapie perché come dire a un malatto di cancro, lei ha un problema al cancro al fegato, però non ci sono le terapie, quindi era forse meglio non sapere neanche prima che c'è questa diagnosi da questo punto di vista. Quindi c'è un po' di, come dire, di gap per quanto riguarda l'attivazione delle terapie. perché diciamo che ogni bambino che nasce con un handicap, quindi con uno svantaggio, ha bisogno di essere supportato e aiutato per poter adeguarsi alla società. Poi immaginiamo adesso come quanto... Ma queste tecniche, queste terapie stanno progredendo al pari con l'aumento dei casi? Il privato sta rispondendo, il privato sta creando delle realtà, quasi ogni paese ha una struttura privata che si occupa di terapie per il DSA, per i disturbi specifici dell'apprendimento, per l'autismo, perché i casi sono in aumento. Quindi la disabilità che lavora nella scuola è andato di fatto in aumento. Quindi è una delle criticità anche quella alla formazione di un'autismo. Molto chiaro. Torno da lei tra poco. Il caso anche di Paola Romano che insomma opera nelle scuole ha un'associazione un riscontro a quello che ha detto la psicologa. Sì, assolutamente sì. Purtroppo per quello che può oggi la buona scuola, quindi un indirizzo diverso proprio di formazione di tutti i ragazzi che siano disabili e non, riguarda proprio una sorta di curriculum delle competenze. Quindi cerca di sviluppare la cittadinanza della persona in tutti i sensi. È sempre comunque un percorso da poco iniziato ma anche molto duro anche per l'interculturalità. ci sono tante cose che attualmente si stanno muovendo e pian piano dovrebbero trovare un connubio tra di loro e risolvere anche queste criticità perché purtroppo le criticità ci sono problemi di organizzazione non si riesce a fare un percorso la mattina che sia contigo con quello del pomeriggio o viceversa? Si potrebbero fare tante cose ma le scuole prevedono un'inclusione di tutti quindi le procedure che utilizzano le scuole per fare attività extracurricolari sono molto lunghe e seguono dei procedimenti mentre le strutture private o il terzo settore riescono brevemente ad arrivare agli stessi obiettivi con canali più semplici quindi con più diretti ASD quindi l'arte dell'inclusione sport abbiamo detto prima musica pittura sono tante forme di arte anche che possono includere abbiamo citato il basket il calcio è un altro sport forse quello per eccellenza in cui c'è l'inclusione si fanno molte attività in cui il motodato gioca insieme io ho assistito a diverse diverse partite o comunque ho fiancato anche delle società in cui c'era questa la squadra di integrata è uno spettacolo vedere questi ragazzi a volte è capitato di vedere anche un ragazzo che sbagliava la porta si è segnato nel gol nella prima porta e di esultare come fosse un gol è bellissimo è stato accolto da tutti i compagni come avesse fatto lo stesso quindi è stato bellissimo loro vivono sicuramente un mondo però ho visto anche un progredire di questi ragazzi negli anni perché è stato un discorso negli anni poi ce ne sono tante anche a livello nazionale di associazioni che fanno questo però oggi ho visto anche la presenza delle società sportive nel fare i tornei questo è importante che sia di calcio di pallavolo eccetera quindi capire anche che aumentano i numeri ma possiamo anche creare la squadra non solo dell'under 12 o dell'under 16 ma la squadra integrata e andare avanti esatto perché nasce si incrementa la conoscenza quindi la conoscenza di giochi alternativi dove possono partecipare tutti e dove comunque si arriva a vari tipi di discipline per questo si riesce poi con questo sistema a sviluppare tante sfaccettature della persona quindi dal punto di vista relazionale tutte le arti di cui si mette in atto sono arti che mirano all'interesse la prima problematica proprio del comportamento del ragazzo autistico è il chiudersi la prima strategia nel creare delle arti di attività è proprio cogliere l'interesse quindi distogliere dal proprio mondo e creare un obiettivo questo ci permette poi di far migliorare la capacità attentiva quindi di essere attento ad ogni situazione ad ogni abilità e competenza che lui riesce ad esprimere quindi dal disegno come si diceva a proprio la manualità è la gestualità quotidiana che lui poi utilizza come comunicazione abbiamo parlato della parte politica abbiamo parlato diciamo dello sport come inclusione allargamento insomma delle frontiere delle braccia e anche delle visioni di questi ragazzi c'è un altro aspetto sociale non indifferente che sta aumentando che è quello della violenza la violenza e disabilità ne abbiamo parlato anche avete sentito col ministro Locatelli nella prima parte in questa nostra intervista 50 violenze sessuali 21 episodi di stalking 230 casi di maltrattamenti nei confronti di donne con disabilità questi sono i dati registrati dall'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori della direzione centrale della polizia e della pubblica sicurezza nel biennio che va dal 1 ottobre 2020 al 20 settembre del 2022 professoressa Nuzzaci purtroppo aumentano i casi aumentano i casi perché l'abbiamo analizzato anche nelle scorse puntate bullismo sarebbe bullismo dove qui i più forti detti tali sedicenti tali traprendono con chi è più debole come intervenire come poter far fronte a questa piaga allora ovviamente io mi riferisco sempre all'istruzione come elementi ai processi educativi di cui mi occupo allora la scuola e tutte le agenzie educative hanno come principio scopo quello di lo abbiamo detto in altri contesti quello di agire come contrasto alla violenza come prevenzione e dicevo sempre il fatto di non arrivare ad usare la violenza significa costruire delle abilità e anche degli atteggiamenti che in qualche modo sono positivi e di contrasto il problema qual è secondo me il problema è che quando noi parliamo di scuola o parliamo di istruzione si diceva prima la psicologa mi scusi se non ricordo il nome ma è il problema fondamentale riguarda secondo me la continuità tra gli interventi non solo quelli dentro la scuola ma fuori della scuola ma anche quelli di competenza perché molto spesso siamo gli insegnanti rischiano di parlare di cose che non conoscono anche talvolta figure come i neuropsichiatri si occupano di cose di cui non si dovrebbero occupare ma questo vale per tutti per tutte le categorie cioè il problema è capire fin dove ci possiamo spingere quando lavoriamo insieme all'interno di quelle che sono gli interventi rispetto alla violenza rispetto alla disabilità ci troviamo di fronte a doppie esclusioni che non sono solo di ordine sociale e culturale ma ci troviamo di fronte a delle esclusioni proprio perché la somma tra violenza e disabilità produce dei meccanismi veramente distorsivi a livello della società che so che significa significa che la scuola deve insieme ad agire insieme alle altre agenzie educative del territorio per cercare di arginare questi foromi da sola non si fa più niente le competenze singoli di un operatore non servono più a niente se non si costruiscono reti di intervento sistemiche dove la violenza viene rimossa da una parte come comportamenti come atteggiamenti come promozione di atteggiamenti positivi e di contrasto e dall'altra però le azioni che permettono di far lavorare insieme le persone e senza questo non esiste azione di contrasto ritorno all'ottica sistemica senza un'ottica sistemica politica culturale sociale laddove il beneficio del contrasto alla violenza si ottiene a diverso livello non esiste il contrasto all'edizione non esiste una sensibilizzazione delle persone alla come dire a supportare azioni di sostegno non esiste il singolo esiste purtroppo la comunità che agisce insieme come comunità che si fa diciamo sostenitrice e promotrice di comportamenti e atteggiamenti positivi e risolutivi nei confronti non solo del territorio ma anche a diverso livello io penso che la politica non abbia solo l'obiettivo di scrivere linee guida e di applicare quelle europee come forme di contrasto ma abbia quello di tradurre tutto quello che è linee guida in azione e questo lo possono fare le persone con le proprie culture di riferimento con le proprie professionalità nei contesti specifici altrimenti parliamo sempre delle stesse cose ma evitiamo l'uno se ne va per fatti suoni è di teoria è di pratica poco voglio capire anche il pensiero della nostra psicologa professoressa Nuzzaci ha fatto breccia in questo senso ha dato delle inequità molto chiare un pensiero che condivido in pieno Dubbiolo si può entrare in questa visione non solo teorica ma anche pratica dipende dai modelli di riferimento se noi pensiamo che il grande il grande tempo che passano i ragazzi per esempio davanti ai media che sia facebook che sia televisione noi guardiamo i contenuti che vengono dati e noi ci rendiamo conto che abbiamo dei rivali nel compito educativo che sono diciamo molto potenti quindi questi media questi social ma poi bisogna quali bisogna capire bisogna dare dei freni mettere dei paletti questo sono molto categorico che danno questi social dove la violenza è costantemente invece diciamo divulgata quindi e quindi questo è il problema bisognerebbe già che anche nel contesto casa i genitori svolgessero un'azione di controllo per cui ad esempio la sera se una accende la televisione in orario di cena che già non è una cosa secondo me opportuna però anche un dopo cena o prima di cena non vedi che scene di violenza sui canali principali e quindi converrebbe cercare modelli adeguati perché diciamo che l'aspetto educativo non è svolto solo dalla scuola viene purtroppo anche nelle interazioni quotidiane bisogna avere dei modelli adeguati diciamo che è eroico occuparsi di disabilità difendere i più fragili e come fanno appunto nell'associazione angeli di ninfa dare il proprio tempo in maniera volontaria per sostenere i più fragili però in questo caso anche il bullismo entra in questa visione questa spirale negativa puoi ripetere dico anche purtroppo il bullismo entra in questa visione in questa spirale negativa sì dipende purtroppo noi impariamo dall'esempio abbiamo e del resto abbiamo i neuroni a specchio che ci dimostrano che noi attraverso l'osservazione la semplice osservazione abbiamo già una reazione neuronale di quello che abbiamo visto quindi per noi l'esempio è fondamentale nell'apprendimento ma dottoressa come si può contrastare questo fenomeno capire i ragazzi parlare ovviamente con norma dotati star vicino a quelli disabili capire anche le esigenze capire le difficoltà attuare magari un procedimento attuare un dei passi necessari per poter capire che poi molto spesso neanche si parla non si parla perché non c'è più tempo di comunicare è tutto così veloce però già una trasmissione come questa che prende del tempo per comunicare per parlare appunto della disabilità e per parlare appunto delle difficoltà dei giovani anche nel trovare buoni modelli educativi per cui ci troviamo di fronte a delle persone forti che se la prendono con i più fragili che è una cosa che è incomprensibile a livello morale etico eppure lo constatiamo come cronaca e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi bisogna bisogna testimoniare che esistono altre possibilità di identificazione che non sono solo quelle nel vincere più forte purtroppo ci sono questi modelli negativi li vediamo sui social abbiamo fatto poche settimane fa un'altra puntata proprio su questo e vedendo come adesso è diventata una moda picchiare l'altro e con altri due complici vicino che riprendono questo bello spettacolo ovviamente ironico il mio bello spettacole Paola Romano fate un'azione veramente positiva verso questi ragazzi l'inclusione il villaggio di Ninfa che cos'è? il villaggio di Ninfa non fa altro che racchiudere tutto il contesto che avvolge questi ragazzi quindi tutto quello che noi facciamo con questi ragazzi abbiamo fatto nel tempo li abbiamo racchiusi in un unico luogo quindi come proprio una location che è un centro socio educativo questo centro socio educativo nascerà con lo sviluppo di due aree distinte ma correlate tra loro dove ci sarà un'area con i laboratori di attività che formeranno quindi andranno a far migliorare le abilità e le competenze di questi soggetti autistici per quello che riguarda poi l'inserimento lavorativo quindi una sorta di proseguimento di autonomia nella vita lavorativa l'altra parte invece riguarda proprio la la formazione della propria autonomia quindi del progetto vita quindi con un gruppo di appartamento e al piano dove ci sarà un centro diurno per poter esplicare poi tutte le attività quotidiane e alla cronaca va per la maggiore quando sono dei ragazzi che aprono delle attività una pizzeria fanno qualcosa del sociale allora tutti sono un po' incuriositi ci sono per fortuna dei modelli che possiamo prendere a riferimento delle azioni buone nel far progredire questi ragazzi anche nella vita tutti i giorni ci sono noi ne abbiamo realizzati attualmente due con due ragazzi che sono attualmente inseriti in due contesti diversi lavorativi uno che riguarda proprio l'inserimento in un'azienda di assemblaggio materiale quindi grazie anche le attività sportive le attività di disegno tutto ciò che lo ha reso consapevole e capace di utilizzare al massimo le proprie potenzialità quindi psicomotorie il senso del ritmo di coordinazione questo lo riesce a rimettere in pratica con competenze trasversali attraverso il proprio lavoro in questo caso di assemblaggio quindi in una catena di montaggio come anche l'altra persona è inserito in un contesto comunale proprio di proprio del mantenimento del nostro campo di lavanda attraverso un'altra cooperativa che la affianca per poter quindi il contratto di lavoro a tutti gli effetti queste sono conquiste sono conquiste insomma sono esempi da portare avanti con grande orgoglio grazie per questa testimonianza e quello che fate ogni giorno a Paola Romano dell'associazione Angeli di Ninfa grazie a voi grazie a Alessandra Rubiolo per dato insomma una svolta una prospettiva diversa appunto di vista psicologico e anche della realtà in cui viviamo grazie grazie a lei e Antonella Nuzzaci pedagogista è sempre vicino insomma per dare delle risposte un punto di vista della formazione dell'educazione della cultura che è la base della nostra vita io dico solo una cosa velocemente perché siamo in chiusura quello che dico semplicemente proviamo a pensare non solo ai ragazzi ma agli adulti richiamando le tecnologie dico occupiamoci anche degli adulti perché penso che il problema non sia nei bambini e nei ragazzi ma sia negli adulti grazie è bellissimo chiudere con questa perla che trovo assolutamente vera grazie Antonella Nuzzaci noi ci fermiamo qui ma prossima settimana torniamo a Bruxelles perché parliamo di nuovo di lavoro di imprenditoria femminile insomma un'altra puntata niente male continuate a seguirci grazie a voi tutti e buona serata grazie a tutti Grazie a tutti